Vanno, sesta corsa a Dagnano, premio cartoni anni 80 e la prova clou del pomeriggio, un miglio per anziani di categoria BC 9 al via. In prima fila Bonetto Star, Condor Horse, Belgiacomino Park, Bixio, Brest dei Greppi, Barbabietto Lopel, Apocalipto e Bravo di Ruggi. Seconda fila Cars dei Daltri, si ritrae Apocalipto, brutto di meccanica, Belgiacomino Park finisce con lo sbagliare. E alla chiusura delle ali Bonetto Star, attaccato dal favorito Brest dei Greppi, gli concede la via libera. E così dopo 200 metri si sistemano Brest dei Greppi al comando, Bonetto Star secondo e Condor Horse terzo. Lancio in 13 e mezzo, completamento della prima piegata, risale Bixio che capeggia la corsia esterna, la corsia di destra. 28 e 9 il primo quarto, mezzo giro sul piede dell'1.12.8, Brest dei Greppi a menare le danze. 43 e 3.600, Brest dei Greppi, Bonetto Star, Condor Horse e Cars dei Daltri. Lungo i paletti, allargo Bixio, Barbabietto Lopel, Apocalipto, chiude Bravo di Ruggi. 59 scarsi a metà gara, Brest dei Greppi allunga sulla dritta di fronte e mette in difficoltà quelli a largo. 13.8 il chilometro, 14.9 l'ultimo paletto. Brest dei Greppi seguito da Bonetto Star e Condor Horse, ci prova in terza ruota Barbabietto Lopel. 200 metri in 14 secchi, 1.27.8, 3 quarti di miglia, abbandona lo steccato Bonetto Star e va all'attacco di Brest dei Greppi. Ingressi in retta d'arrivo con Bonetto Star che scurva un po' largo ma è incisivo, molto incisivo Bonetto Star. Passa Bonetto Star nei confronti di Condor Horse che sta sottomettendo Brest dei Greppi. Arriva anche Barbabietto, battute conclusive, Bonetto Star alla grande, Condor Horse è secondo e per il terzo probabilmente Barbabietto Lopel. Ma attendiamo le decisioni del giudice d'arrivo perché terminano vicini e anche Bonetto Star fa un ciocco perché sul mio cronometro c'è 1.55 per cui parliamo di una media intorno all'1.12 ripresentato in grande spolvero con il training nuovo ma vecchio di Luigi Sidi per il figlio di Grucione Getta e Liriccanz di proprietà del signor Giuseppe Coppola. Alla grande, Giorginio Insalchi ha i 400 conclusivi se lo è prima caricato in mano, poi è intervenuto a largo ed ha preso nettamente la meglio. Per il secondo un ritrovato Condor Horse, per il terzo attendete il giudice...